Prendiamo in considerazione un corpo conduttore. Per induzione o per contatto carichiamolo elettricamente. Quasi istantaneamente le cariche si distribuiscono sul corpo fino a fermarsi. Vediamo che conseguenze possiamo trarre dall'idea che le cariche sul corpo conduttore siano ferme. Se sono ferme, vuol dire che su ciascuna di esse la forza complessivamente agente è nulla. Quindi, inevitabilmente vuol dire che l'intensità del campo elettrico all'interno del corpo conduttore è zero dovunque. Perché se non fosse zero, una carica che vi fosse posta subirebbe una forza pari all'intensità del campo per la carica stessa. Quindi, cariche ferme, forza uguale a zero su ciascuna, significa che l'intensità del campo è zero dovunque nel conduttore. Un'altra conseguenza immediata è che l'intensità del campo sulla superficie esterna del conduttore deve essere perpendicolare alla superficie stessa. Perché, se non lo fosse, vuol dire che l'intensità del campo, che ha una direzione qualunque e non quella perpendicolare, avrebbe allora una componente tangenziale ed una componente radiale o perpendicolare alla superficie. La componente tangenziale avrebbe come effetto di far scorrere le cariche in superficie tangenzialmente alla superficie stessa. E questo in contraddizione con il fatto che abbiamo affermato che le cariche sono ferme. Quindi, non è possibile che il campo elettrico abbia una direzione qualunque, ma deve necessariamente essere perpendicolare alla superficie. Sottolineiamo che queste due conclusioni, che il campo elettrico sia zero dovunque in un conduttore carico e che l'intensità del campo elettrico sulla superficie del conduttore sia adesso perpendicolare, vale per conduttori di qualunque forma geometrica. Adesso limitiamoci ad un conduttore sferico. Vediamo di capire le cariche ferme dove in realtà si trovano. Per far questo, immaginiamo all'interno del nostro conduttore sferico una sfera ideale, che chiamiamo sfera di Gauss. Sappiamo che il campo elettrico è uguale a zero dovunque. Il flusso di campo elettrico che attraversa la superficie scelta di Gauss, allora, quant'è? Dalla definizione sappiamo di dover fare l'integrale superficiale del prodotto scalare tra intensità del campo e superficie. Ma l'intensità del campo è zero, quindi inevitabilmente il flusso elettrico che attraversa la superficie celeste, quella di Gauss, vale zero. Ma dal teorema di Gauss noi sappiamo che il flusso è determinato anche dal rapporto tra la carica presente internamente alla superficie di Gauss diviso la costante di elettrica. Ma sappiamo che deve essere zero questo flusso, dal che possiamo desumere che la carica interna alla superficie di Gauss scelta vale zero. E questo possiamo ripeterlo aumentando le dimensioni della sfera di Gauss, fino a raggiungere le dimensioni del conduttore sferico. La carica all'interno sarà sempre nulla. Dobbiamo allora concludere che la carica sul conduttore sferico sia andata a posizionare sulla superficie esterna. Possiamo anche stabilire che questa carica si sia distribuita in maniera uniforme sulla superficie sferica. Questo dipende dal fatto che la sfera ha una simmetria tale che ogni suo punto è equivalente ad ogni altro. Vale a dire che non c'è nessun punto di una superficie sferica che abbia un particolare privilegio. Quindi nessun punto può avere più o meno carica di ogni altro punto della sfera. Dunque, su una sfera conduttrice, la carica elettrica si stabilisce sulla superficie esterna in maniera uniforme. Se poi definiamo la grandezza scalare sigma, densità superficiale di carica, come il rapporto tra la carica presente su una determinata superficie, diviso la superficie stessa, capiamo che questa grandezza ci dà come informazione la quantità di carica presente in ogni unità di superficie e limitatamente al conduttore sferico possiamo affermare che la densità superficiale di carica è uguale dovunque, visto che la carica si è distribuita in maniera uniforme. Sapendo allora che per un conduttore sferico la carica è distribuita uniformemente sulla superficie esterna e che al suo interno il campo elettrico vale zero dovunque, vediamo di determinare quanto vale il campo elettrico in punti esterni a questo conduttore. Per far questo consideriamo una superficie di Gauss esterna al nostro conduttore sferico e adesso concentrica. Determiniamo il flusso di campo elettrico esistente su questa superficie. Sappiamo della definizione di dover fare l'integrale superficiale del campo elettrico per la superficie. Ma sappiamo che è l'intensità del campo a uguali distanze dal centro del conduttore. Non può che avere lo stesso identico modulo come conseguenza della simmetria sferica del conduttore e della distribuzione delle cariche su di esso. Ma nella stessa direzione va anche il vettore superficie. Quindi l'angolo tra campo elettrico e superficie è zero, dunque il coseno vale uno. L'intensità del campo possiamo allora estrarla dall'integrale perché ha lo stesso identico valore su tutta la superficie e il coseno vale uno. Dunque dobbiamo fare l'integrale, cioè la somma delle infinite microsuperfici in cui è stata frammentata della nostra superficie di Gauss. Ma sommando tutti i frammenti di superficie otterremo alla fine l'intera superficie, cioè il flusso di campo elettrico sulla superficie di Gauss che abbiamo scelto è pari all'intensità del campo elettrico per 4πr² che è la superficie della sfera stessa dove r rappresenta naturalmente il raggio di questa sfera. Dal teorema di Gauss però sappiamo anche che il flusso di campo elettrico su una superficie chiusa è sempre determinato dal rapporto tra la carica presente all'interno della superficie e la costante di elettrica del mezzo. Abbiamo determinato che questo vale E per 4πr² quindi da qui possiamo dedurre che l'intensità del campo in ogni punto della sfera di Gauss scelta vale 1 su 4πyy0 moltiplicato la carica e diviso la distanza al quadrato che come vediamo è esattamente la stessa forma che ha l'intensità del campo elettrico generato da una carica puntiforme. Dunque all'esterno di una sfera carica elettricamente conduttrice l'intensità del campo è esattamente uguale a quello che si avrebbe se l'intera carica fosse concentrata nel centro della sfera. Dalla definizione che abbiamo dato di densità superficiale di carica vediamo di poter riscrivere questa forma del campo elettrico in un altro modo al posto della carica mettiamo il prodotto tra densità di carica e superficie per una sfera conduttrice abbiamo affermato, abbiamo compreso che la densità di carica è uguale dovunque dunque avremo 1 su 4πy0 moltiplicato sigma per la superficie della sfera che è 4πr² dove in questo caso r è quello della superficie conduttrice e dobbiamo poi dividere per r² con r piccolo che è invece la distanza di un qualunque punto dal centro della sfera. 4π e 4π si semplificano rimane che l'intensità del campo è esprimibile in questo modo sigma fratto ε con 0 moltiplicato il raggio della sfera conduttrice al quadrato diviso la distanza del punto al quadrato nel caso particolare dei punti della superficie della nostra sfera carica i due raggi coincideranno e quindi abbiamo questa formula che ci racconta quanto vale l'intensità del campo elettrico esattamente sulla superficie di una sfera carica vediamo ora dove e come si distribuiscono le cariche su un conduttore che abbia una forma qualunque scegliamo un conduttore ovoidale come in figura sappiamo già che al suo interno l'intensità del campo vale 0 dovunque scegliamo una superficie interna al nostro conduttore una superficie di Gauss e valutiamo il flusso elettrico su questa superficie essendo uguale a 0 l'intensità del campo dovunque il flusso inevitabilmente verrà 0 sulla superficie di Gauss ma per il teorema di Gauss il flusso di campo elettrico è pari alla carica interna alla superficie diviso la costante di elettrica e deve valere 0 perché lo abbiamo già stabilito da qui desumiamo inevitabilmente che la carica interna alla superficie di Gauss scelta valga 0 e questo per qualunque superficie di qualunque forma che noi si sia scelto all'interno del conduttore carico questo porta a concludere inevitabilmente che anche per un conduttore di forma qualunque la carica elettrica si distribuisce sulla superficie esterna rimane da stabilire se anche per un conduttore di forma qualunque la carica sulla sua superficie si distribuisca uniformemente intanto ricordiamo che un conduttore di forma qualunque non ha la stessa simmetria non gode della stessa simmetria di un conduttore sferico ricordiamo per cominciare il concetto di curvatura di una superficie una superficie in un determinato suo punto ha una curvatura che è definita come l'inverso del raggio di curvatura ma il raggio di curvatura di una superficie cos'è? è il raggio della sfera osculatrice cioè della sfera che meglio approssima la curva in quel punto questo vuol dire che per una superficie qualunque il raggio di curvatura è diverso punto per punto quindi è diverso punto per punto la curvatura della superficie stessa che quindi funziona del punto bene, affermiamo che per un conduttore di forma qualunque la carica elettrica si distribuisce sulla superficie esterna ma addensandosi maggiormente quindi avendo una densità superficiale di carica superiore nei punti di maggiore curvatura e invece inferiore la quantità di carica per unità di superficie nei punti della superficie che abbiano una curvatura di basso valore questa affermazione che prendiamo per buona ora la dimostreremo poi quando avremo definito la grandezza fisica potenziale elettrico ma quanto vale l'intensità del campo sulla superficie di un conduttore di forma qualunque? abbiamo visto che potevamo esprimere l'intensità del campo sulla superficie di un conduttore esterico come il rapporto tra sigma, la densità superficiale di carica e la costante di elettrica del mezzo ma la densità superficiale di carica per una sfera aveva lo stesso valore dovunque non è più così nel caso di una superficie di forma qualunque perché abbiamo detto che la carica si distribuisce addensandosi più o meno a secondo della curvatura quindi anche la densità superficiale di carica è funzione del punto della superficie cambia da punto a punto in figura le frecce rosse rappresentano il vettore campo elettrico sulla superficie e possiamo notare che come sappiamo il vettore è perpendicolare alla superficie e ovviamente ha un modulo maggiore laddove c'è un maggiore addensamento di cariche ma per valutare quanto valga l'intensità del campo in ogni punto della superficie facciamo questa operazione prendiamo una superficie di Gauss che sia un parallelepipedo un piccolissimo parallelepipedo facciamo lo zoom di questa superficie vediamo che la superficie superiore del parallelepipedo è esterna al conduttore mentre la superficie inferiore rimane interna al conduttore quindi possiamo comprendere che il flusso di campo elettrico sulla superficie inferiore sia zero perché è zero il campo elettrico all'interno del conduttore il flusso di campo elettrico sulle superfici laterali è zero è nullo perché l'intensità del campo uscendo perpendicolarmente dalla superficie è parallelo alle superfici stesse quindi con un contributo al flusso nullo l'unica superficie che abbia un flusso di campo elettrico diversa da zero è allora la superficie superiore del nostro parallelepipedo naturalmente il parallelepipedo possiamo immaginare di renderlo via via più piccolo fino ad arrivare al limite ad un parallelepipedo che abbia la superficie superiore pari ad un punto quindi in quel caso la superficie sarà il differenziale di superficie cioè di S il vettore di S e il vettore campo elettrico sono paralleli perché entrambi escono perpendicolarmente dalla superficie calcoliamo allora il flusso di campo elettrico sulla nostra superficie di Gauss sul minuscolo parallelepipedo l'intensità del campo elettrico trattandosi al limite di una superficie pari a un punto vale E di x, y, z vale a dire l'intensità del campo elettrico in quel preciso punto moltiplicato per la superficie per i differenziati di superficie di S per il teorema di Gauss il flusso vale il rapporto tra Q ed Epsilon con 0 dove Q si intende la carica presente all'interno della superficie di Gauss cioè all'interno del nostro piccolissimo parallelepipedo ma noi possiamo esprimere la quantità di carica come il prodotto della densità di carica in quel punto ovviamente moltiplicato la superficie da questa uguaglianza semplificandosi di S rimane allora che l'intensità del campo sulla superficie del nostro conduttore nel punto x, y con z vale il rapporto tra sigma cioè la densità superficiale di carica di quel punto diviso Epsilon con 0 possiamo allora generalizzare la formula che dà l'intensità del campo elettrico in un punto qualunque della superficie di un conduttore carico l'intensità del campo elettrico che esce perpendicolarmente dalla superficie vale la densità superficiale di carica di quel particolare punto diviso la costante di elettrica del mezzo dentro cui il conduttore è immerso notiamo che la densità superficiale di carica legata alla curvatura è costante soltanto per due particolari superfici la superficie piana e la superficie sferica perché queste sono le uniche superfici ad avere un raggio di curvatura costante, uguale in ogni punto il raggio di curvatura della superficie piana è infinitamente grande e quindi la sua curvatura è nulla vale 0 invece la curvatura di una superficie sferica vale 1 fratto il suo raggio questo in ogni punto delle superfici quindi ε uguale a σ fratto ε con 0 diventa semplicemente ε uguale a σ fratto ε con 0 con σ valore unico soltanto per le superfici piane e per le superfici sferiche la figura inferiore mostra le linee di forza del campo elettrico uscente da un corpo conduttore di forma qualunque carico elettricamente è evidente che l'intensità del campo è maggiore dove è maggiore la curvatura della superficie ma se ci ponessimo a grandi distanze dallo stesso conduttore ad un osservatore che si trovasse nel punto p quindi il corpo conduttore sembrerebbe di fatto puntiforme quindi dobbiamo aspettarci che l'intensità del campo a grandi distanze abbia la stessa forma del campo elettrico generato da una carica puntiforme vale a dire 1 su 4π ε con 0 la carica divisa la distanza al quadrato ecco perché le linee di forza a grandi distanze sono a raggiera come quelle generate da una carica puntiforme ricapitolando allora abbiamo compreso che le cariche elettriche su un conduttore di forma qualunque si distribuiscono sulla superficie esterna l'intensità del campo uscente perpendicolarmente in ogni punto della superficie è legata alla densità superficiale di carica nel punto preso in considerazione la densità superficiale di carica poi è legata alla curvatura della superficie tanto maggiore la curvatura tanto maggiore sarà la densità superficiale di carica le uniche superfici ad avere curvatura costante uguale in ogni punto sono il piano e la superficie sferica la superficie sferica che ha come valore di curvatura 1 fratto il proprio raggio e il piano che ha valore di curvatura 0 perché il raggio della sfera osculatrice un piano è una sfera di raggio infinito quindi la curvatura del piano è nulla le cariche allora possono distribuirsi si distribuiscono uniformemente soltanto nel caso di una superficie piana e di una superficie sferica per qualunque altro tipo di superficie la densità superficiale di carica sarà funzione del punto e sarà quindi funzione del punto l'intensità del campo sulla superficie di quel conduttore per finire andiamo a comprendere il perché un corpo che presenti una forma a punta si scarica molto ma molto rapidamente abbiamo compreso che se c'è una punta in quel punto della superficie la curvatura è grandissima visto che il raggio di curvatura è estremamente piccolo quindi la gran parte delle cariche si stabilisce in quella zona del corpo come mostrato in figura l'intensità del campo sulla superficie è tanto più grande quanto maggiore la curvatura quindi è grandissima in prossimità della punta le cariche si saranno distribuite preferenzialmente sulla punta ma un campo elettrico molto intenso produce questo effetto vale a dire disegniamo in maniera semplice un atomo con il suo nucleo e un elettrone che non sia l'unico elettrone presente ma è rappresentato soltanto l'elettrone più esterno quando questo atomo è investito da un campo elettrico intenso l'orbitale degli elettroni più esterni si deforma perché mentre il nucleo positivo è attratto in una direzione l'elettrone negativo è attratto nella direzione opposta quindi c'è un effetto di elasticizzazione dell'orbitale atomico quando l'intensità del campo elettrico sia particolarmente grande può accadere che questo elettrone o questi elettroni più esterni possano essere addirittura strappati dall'atomo di cui fanno parte creando così due ioni l'elettrone negativo e il nucleo positivo e il nucleo con il resto dell'atomo positivo naturalmente in prossimità di una punta accadrà che l'ione di carica opposta a quello alla carica del corpo verrà rapidamente attratto mentre l'ione di segno uguale sarà respinto ci sarà allora una pioggia di cariche sulla punta di cariche opposte alla carica del conduttore che quindi neutralizzeranno la carica del conduttore stesso è come se dalla punta la carica elettrica fluisse via anche se in realtà è semplicemente neutralizzata dagli ioni che il campo elettrico stesso sta producendo questo effetto è sfruttato nei parafulmini perché dato che una punta ionizza l'aria attorno a sé e il percorso che scelgono le scintille la cui fisica studieremo più avanti e preferenzialmente quello in cui siano presenti degli ioni una punta attrae allora le scintille dunque i fulmini è questo il modo con cui si costruiscono i parafulmini il parafulmine ricordiamo che fu inventato da Benjamin Franklin lo stesso fisico statunitense che aveva compreso per primo l'esistenza di due tipi di cariche differenti di cariche